Non credi che avesse un cancro al cervello? Certo che aveva un cancro al cervello, neanche gli oncologi possono sbagliarsi per otto anni. Se sei d'accordo con la diagnosi, perché hai accettato il caso? Il trattamento può essere interessante. Ma non per te. Io sono cambiato. Non sei cambiato. No, è vero. Allora perché accetti il caso? Ha tentato di suicidarsi. Ha avuto il cancro e ora è un vegetale, non è più in grado di toccare la moglie e di parlare col figlio. È stato su quella sedia per otto anni, ha i muscoli atrofizzati, posso far diminuire i dolori. Non è una buona ragione per aiutarlo? Non per te. Io sono cambiato. Non sei cambiato. E allora perché ho accettato questo caso?